Seguendo il richiamo del collega che ha appena intervenuto sulla responsabilità che ha il legislatore, quindi tutti quanti noi, all'interno di quest'Aula nell'affrontare temi così delicati, io penso, e questo è un sentimento, un pensiero diffuso all'interno del mio gruppo, che il più grande errore che possa fare il legislatore, che possa fare chi è chiamato a dare risposte a quelle che sono le emergenze, e dare risposte anche in senso di norme e di civiltà, sia quello di operare sull'onda dell'emotività. E questo penso proprio sia il caso, anche legati ai fatti recenti della sentenza europea sui casi della Diaz, che però non hanno minimamente tenuto conto, come ricordava il collega Cicchitto prima, di tre giorni di assalti violenti al limite dell'attacco terroristico vero e proprio, perché non solo con le bombe, con i missili o con i dirottamenti si fanno attacchi di natura terroristica nei confronti di uno Stato, ma lo si fa anche in maniera organizzata e militare, come è successo appunto nel 2001 a Genova. Quello nessuno, le sofferenze che hanno subito anche fisiche, non solo psichiche o morali, gli agenti delle forze dell'ordine, quelli nessuno le ricorda, tutti quanti se le dimenticano o le mettono in un cassetto, quasi che chi opera all'interno delle forze dell'ordine debba per forza di cose subire la violenza e la stupidità di certi personaggi. Noi non vogliamo invece operare sull'onda dell'emotività, anzi, vogliamo rimanere con i piedi per terra e operare in maniera serena, ragionando con buon senso e cercando di capire quello che potrebbe essere la portata di una norma così ideologica, così ipocrita e così schizofrenica come quella che viene sottoposta oggi all'esame del Parlamento. Ideologica perché è di fatto una risposta sulla spinta del partito unico che odia le forze dell'ordine a quello che appunto si ricordava prima successo in termini di sentenza a livello europeo. Lo stesso Renzi lo ha ammesso. La risposta sarà nella norma sul reato di tortura, senza evidentemente, come è già capitato in tanti altri provvedimenti, sapere minimamente di che cosa parla, perché lui abbiamo ben chiaro il fastidio che prova nei confronti del Parlamento, quindi figuriamoci se avrà mai letto il contenuto di quella norma. Schizofrenica, perché non più tardi di qualche giorno fa abbiamo con molta fatica approvato un testo, per buona parte inutile e inefficace, ma che comunque dà delineo una tendenza politica nel contrasto al terrorismo, e poi adesso facciamo dieci passi indietro, introducendo quella parte all'interno del reato di tortura, della fattispecie specifica del reato di tortura, anche della tortura psicologica, quasi ad annullare qualsiasi tipo di possibilità di interrogatori anche duri nei confronti di persone che vengono qui già pronte, già preparate, già addestrate a resistere a qualsiasi tipo di interrogatorio, che non è quello che magari subisce il cittadino comune che capita a suo malgrado nelle griffie della giustizia, ma interrogatori che devono essere fatti in maniera dura nei confronti di persone che in maniera scientifica vengono qui per disintegrare uno Stato, per distruggere uno Stato, per uccidere delle persone. E non ci si può andare con i guanti di velluto nei confronti di questi. Allora, schizofrenico, perché se da una parte cerchiamo, chiediamo tutti quanti assieme di inaspirare le norme per il contrasto al terrorismo, dall'altra parte, da una parte diamo e dall'altra non solo togliamo, ma intimidiamo in maniera vera e propria non solo le forze dell'ordine, ma probabilmente anche i magistrati rispetto a questo reato. Perché se qualcuno non lo sa, all'interno di quell'accordo internazionale sottoscritto nel 1984 e ratificato poi nel 1988 e tutto quello che ne è poi in qualche modo conseguito, c'è anche il principio della tortura psicologica. E vi è anche inserito un altro principio che qualcuno qui dimentica, evidentemente, oggi. Cioè che la tortura è anche l'uso improprio della custodia cautelare. Allora, chi oggi, giustamente, inneggia i bei tempi di Tangentopoli, magari questo se lo dovrebbe ricordare. Con questo tipo di norma Tangentopoli non si sarebbe potuto assolutamente svolgere. Perché qualsiasi indagato si sarebbe potuto appellare al fatto che i metodi dell'allora PM di Pietro e del suo pool sarebbero stati non al limite, ma sarebbero stati ben oltre, per sua stessa missione, ben oltre la tortura psicologica. Allora, vedete che è schizofrenica ed è anche ipocrita a questo punto questa norma qui. Ci sono all'interno del fascicolo degli emendamenti, emendamenti che noi abbiamo proposto per rimanere appunto nell'ambito del buonsenso e non sconfinare nell'ipocrisia e non sconfinare nell'ideologia. Perché è vero che va punito e va sicuramente introdotto in maniera chiara la fattispecie del reato di tortura, ma deve essere ben chiaro e ben delimitato la fattispecie di reato. Non può essere a discrezione dell'interpretazione di un magistrato che magari ha idee politiche di un certo tipo e che magari ha sfilato nel tempo quando era giovane o anche quando era già in carriera insieme a esponenti di quello che noi chiamiamo il partito unico dell'odio nei confronti delle forze dell'ordine. Se è così, possiamo anche ragionare. Ma se non è così, noi non ci pieghiamo assolutamente all'utilizzo strumentale di una norma di civiltà per limitare il lavoro delle forze dell'ordine. È una cosa assolutamente inaccettabile, perché non è accettabile che un funzionario di polizia, anche un magistrato, chiunque debba svolgere indagini e fa il proprio lavoro, possa essere sottoposta ad indagini quando invece magari ci sono delle persone totalmente al di fuori della legalità che per loro diretto non fanno altro che manifestare sfasciando le città e quelle rimangono totalmente impuniti. Noi a questa porcata qui non ci stiamo assolutamente. Quindi noi chiediamo che gli emendamenti all'esame di quest'Aula che inizieranno oggi pomeriggio siano da tutti quanti i nostri colleghi in qualche modo ponderati, ripeto, in maniera non ideologica, tenendo anche un filo logico rispetto a quello che è sempre stato detto in materia di sicurezza fino adesso. Perché se così non fosse, noi andremmo a mandare un messaggio pesantemente intimidatorio nei confronti delle forze dell'ordine e anche della magistratura, abbassando e non di poco il livello di sicurezza di questo Paese.